Si è conclusa, in modo a dir poco traumatico, la gestione del presidente Arialdo Giammusso alla Nissa. Ieri pomeriggio, con un lungo e duro comunicato sulla pagina Facebook ufficiale della società, Giammusso ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, lanciando un pesante attacco alla città e anche, senza fare però i nomi, ad alcune società sportive minori che, a suo dire, lo avrebbero ostacolato durante i due anni di gestione. Un addio, dunque, condito da tanta amarezza per i sacrifici fatti che non sarebbero stati mai apprezzati in città, mentre fuori dall'ambiente nisseno, ha sottolineato il presidente nel comunicato, ha ricevuto solo elogi e richieste di collaborazione da parte di società che militano sia in Serie D che in eccellenza. Giammusso ha anche ringraziato la dirigenza per il lavoro svolto insieme, l'allenatore Angelo Bognanni che ha definito amico fraterno, la squadra e tutto lo staff tecnico. Cosa accadrà adesso alla luce di questa novità, per certi versi in attesa, visto che si stava lavorando per allargare la dirigenza e renderla più solida? Il vicepresidente Michele Savoia stamattina ha convocato una riunione per giovedì sera, nel corso della quale verranno analizzate le dimissioni di Giammusso e si discuterà delle prospettive future. In un clima di grande incertezza e confusione, la squadra biancoscudata intanto si prepara per la difficile trasferta di domani sul campo della Mazzarese. La formazione trapanese deve assolutamente vincere per sperare di entrare nella griglia dei play-off, ma serve anche una concomitante battuta d'arresto dell'Akragas che affronterà l'Enna in casa.